Anche Gela oggi ha festeggiato Santa Barbara, patrona della Marina Militare. Una messa è stata celebrata nella chiesa San Francesco, una ricorrenza, un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina Militare italiana. Presenti le autorità civili, militari e religiose, la celebrazione eucaristica è stata ufficiata da Don Giorgio Cilindrello. Oggi la festa di Santa Barbara, la nostra patrona, la patrona della Marina Militare e anche di altri corpi, sia dell'esercito, dei vigili del fuoco che ricordo in quanto collaboriamo spessissimo. È una giornata di gioia ma anche una giornata del ricordo, ricordo dei nostri caduti in mare, ricordo alle famiglie che stanno soffrendo in questo momento per la perdita dei loro cari e in particolare il mio pensiero va ai tre marinai che sono morti a bordo della motonave Sansolino. Auguri a tutti quanti e tanta serenità.